Una partita intensa? Molto intensa, molto, diciamo, sotto le qualità nervosa perché era una partita molto importante per tutte le squadre. Per noi, sapendo che abbiamo perso contro di loro in casa, dovevamo vincere per forza per ripantare questa sconfitta in casa e per raggiungere play-off, che è il nostro obiettivo molto importante. Per loro è uguale, è una partita importantissima, è così, si è sentito un po' nervosismo, per fortuna abbiamo vinto con mille problemi che abbiamo avuto prima della partita e durante la partita perché tanti giocatori stavano male ma siamo riusciti alla fine a vincere e questa è l'unica cosa che conta in questo momento. Qual è stata la chiave dell'incontro? Secondo me è stata la chiave rimonta in primo tempo e finire pari dopo un inizio veramente scarso. Ma guarda, può essere mia colpa perché volevo prolungare la panchina con Cazzolato, con Gentile Marco Istregioni che tutti sono vent'anni o meno, è così. Perché? Perché siamo arrivati senza Brunger, siamo arrivati con Perici che ha giocato a secondo tempo ma ha vomitato mette gara e con Schieder che non poteva giocare a secondo tempo e con Smith che dopo la partita contro il Tedeschi ne ha fatto un allenamento, l'avete visto, ma la fasciata. Per fortuna Sandwich ci ha dato un mano, ne ha fatto un'ottima partita e secondo me abbiamo vinto meritando veramente faticando alla fine, ma secondo me poteva essere un po' più facile, ma così va bene lo stesso. Cosa si è fatto Brunner? Si è stato male? Sì, si è fatto male contro Tedeschi e deve stare fuori in sette giorni. Problema usuale? Sì. Senta, mi sembra di aver visto una squadra estremamente solida, cioè fisicamente molto tosta. avete messo in difficoltà a dirla con la vostra fisicità e soprattutto con il gruppo. Mi sembra che davvero avete fatto enormi e massi davanti in questi ultimi mesi. Onestamente sono d'accordo, l'unica cosa come noi possiamo giocare contro di loro se mettiamo corpo su corpo o giochiamo il gioco fisico perché siano un po' più grassi, più grossi, più fisici e sicuro deve essere nostra forza. Especialmente quando giochiamo con, diciamo senza volere, con Markovic, con Gentile, con Peric, con Smith, tutti quanti sono bel tosti, come posso dire, musculosi e così. E sicuro loro esterni, possiamo escludere di Gianni che ci ha fatto tanti problemi, ma onestamente i due americani sono un po' piccoli e così, secondo me, hanno avuto gran fatica a giocare contro la nostra aggressività. Per vostra sfortuna hanno fatto due o tre triple alla fine, quindi l'ultima seconda, sono riusciti a ribaltare, a tornare ma, come ho detto, segnando a tirere di vero alla fine, secondo me meritavamo questa vittoria piena. Coci, un commento sulla partita di Gentile e su quello che sta facendo il posto di questo stagione. Insomma, anche stasera abbiamo fatto il vecchio con Lura che si è visto un ragazzo non solo pronto, semplicemente di utilizzare tecnicamente, ma anche caratteramente un ragazzo che contiene i confronti in calcio. Non lo posso dire, posso dire solo una cosa che sta, ho ripetuto mille volte, siamo fortunati, ti dici che lo abbiamo, ma secondo me lui è veramente fortunato. Fortunato dove si trova che il mutaggio è stato, prende un livello veramente importante, perché stasera lui ha fatto ottime cose, non onestamente ha fatto due o tre, diciamo, non so. Ma io sono allenatore dove un giovane può fare errore, perché senza questo credito poter fare errore non c'è miglioramento. solo, non può essere, può avere approccio e comportamento come ha avuto in inizio della partita, insieme con un te e una, se avete visto, quando ho cambiato tutti e due li dovevo massacrare, veramente, quasi ho, con lo schermo, ho tirato loro mai, perché, perché devono giocare, devono avere l'atteggiamento corretto e così si può, lui ha migliorato molto, lui ha migliorato molto, ma secondo me le immagini sono veramente, come posso dire, ampi e può migliorare tanti aspetti suo gioco e piano piano speriamo arriviamo dove tutti vogliamo vedere un giocatore veramente importante per la nazionalità di lettera, per la squadra più prestigiosa in Europa, o vuole. Sento ancora una cosa, quanto, quanto conterrà la scelta lì, di Benettoni, quando voi si è guardato tanto ultimamente sulle sue scelte future, su quei altri giocatori, prima di questa gentile, il suo futuro viene più del meno in prossimo anno, e quanto conterrà lì di vita, invece di poterlo? Io sono allenatore, io mi preoccupo, o sono concentrato solo, a cose, dove posso dare mio, come posso dire, impatto, posso dire così, tutta la decisione, che io non posso cambiare, onestamente non voglio discutere, non voglio parlare, è così, voglio finire meglio il possibile, come tutti i ragazzi, come tutta la squadra, avete visto che siamo un gruppo vero, siamo qui nel Formula Cup, partendo, giocando qualificazioni per una cup, veramente un risultato straordinario, perdendo solo una partita contro Sevilla e in Sevilla, vincendo 14 partite e giocando una partita a pari. In campionato inizio abbiamo avuto tanti problemi, prima di tutto perché tanti giocatori infortunati, tanti giocatori giovani, che saranno tempo per stare insieme, per durare, ma nell'ultimo periodo, piano piano, ovviamente, con allestamente oggi, con tutti i problemi che abbiamo avuto, vincere in queste condizioni è veramente una impresa vera.